Non posso non ricordare con grande dolore Le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi a largo di Lampedusa Mi viene la parola vergogna È una vergogna Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita Uomini, doni, bambini Per i familiari e per tutti i profumi Uniamo i nostri sforzi Perché non si rispettano simili tragedie Solo una decisa collaborazione di tutti Può aiutare a prevenirle